Musica Buonasera e bentrovati su Arezzo TV per il nostro consueto appuntamento con l'informazione in apertura La Cronaca, un'operazione internazionale antidroga che tocca anche Arezzo. Ci sono indagini che sono partite dalla discarica di Anversa. Il servizio. Una discarica illegale di rifiuti nelle vicinanze del porto di Anversa ha segnato l'inizio di un'indagine internazionale che ha portato allo smantellamento di un'organizzazione criminale di matrice albanese coinvolta nel traffico di droga su larga scale e nelle rapine a mano armata. 17 sospettati sono stati arrestati. Questo è il risultato di un'operazione coordinata il 4 giugno scorso tra Belgio, Paesi Bassi, Austria, Germania, Svizzera e Italia dove sono stati fermati i capi dell'organizzazione, secondo gli inquirenti, di cui uno ad Arezzo. Tra i rifiuti del porto di Anversa erano state infatti scoperte confezioni vuote di cocaina e utensili utilizzati per tagliare la droga. A catena sono state poi trovate diverse discariche illegali contenenti dozzine di contenitori vuoti di droga. Le indagini coordinate dall'Europol hanno rivelato che dietro a queste discariche c'era un'organizzazione criminale albanese che si occupava dell'importazione e dell'esportazione di cocaina ed eroina in vari paesi europei utilizzando veicoli dotati di doppi fondi. L'organizzazione collaborava anche con un altro gruppo criminale albanese per rapinare i trasporti di droga di clan rivali. A disposizione un impressionante arsenale di armi da fuoco. Sono stati sequestrati in tutto 100 kg di cocaina, 6 armi da fuoco, ingenti somme di denaro contante, circa 265.000 euro, sostanze per il taglio della droga, uniformi della polizia, giubbotti antiproiettile, immobili e veicoli con doppi fondi, due laboratori per la raffinazione, lavorazione e estrazione della cocaina ed infine 20 criptotelefoni. Ad Arezzo i carabinieri del comando provinciale hanno dato esecuzione ad un'ordinanza d'indagine europea emessa dal tribunale di Anversa, rintracciando ed arrestando un 33enne albanese accusato di spaccio di sostanze stupefacenti. All'uomo è stato notificato anche un ordine di esecuzione per la carcerazione in quanto dovrà scontare una pena di due anni, dieci mesi e sei giorni di reclusione sempre per reati in materia di stupefacenti commessi a Civitella in Valdichiana nel 2016. L'uomo si trova nel carcere aretino di San Benedetto. Ancora una notizia di cronaca in fuga con una Mercedes. Speronano la polstrada, inseguiti e arrestati. I tre ladri si trovano ora al carcere di Arezzo. Un inseguimento da film in autostrada, un'auto della polizia speronata e alla fine in tre. Finiscono in manette con l'accusa di ricettazione, resistenza pubblico ufficiale, lesioni aggravate e possesso di strumenti atti allo scasso. È successo in corsia nord della A1 nella Rettino dopo una serie di furti perpetrati nel territorio di Montevarchi. La polizia era riuscita ad individuare l'auto utilizzata dai malviventi e il loro modus operandi. La condivisione degli elementi investigativi ha consentito agli inquirenti di intercettare in più occasioni la banda dei ladri. In un primo episodio i malviventi hanno utilizzato un estintore per seminare le auto della polizia. Nella notte però tra il 30 e il 31 maggio scorsi i poliziotti sono riusciti a bloccare la banda lungo l'autosole. L'autista dell'auto, una Mercedes vistosi braccato, ha inserito la retromarcia andando a scontrarsi con l'auto della polizia. Un poliziotto è rimasto anche ferito 25 giorni di prognosi. I malviventi in tutto sei hanno tentato la fuga a piedi scavalcando il New Jersey. In tre ci sono riusciti, gli altri sono stati arrestati. Si tratta di un 45enne, un 29enne e un 22enne, tutti con precedenti penali. Successivamente si è scoperto anche che l'auto viaggiava con targa clonata. All'interno di quest'ultima sono stati sequestrati numerosi strumenti e attrezzi atti allo scasso. Gli arresti sono già stati convalidati. E continuano i controlli del territorio da parte della Polizia Municipale di Castiglion Fiorentino, denunciato un cittadino indiano per guida con patente falsa. È successo la scorsa settimana quando, durante un normale controllo del territorio, la pattuglia ha fermato una macchina alla cui guida c'era appunto il cittadino indiano residente nella provincia di Arezzo. Visto che il documento non era conforme agli standard, sono scattati accertamenti più approfonditi che hanno certificato appunto che la patente era contraffatta. Per il cittadino originario dell'India, una denuncia a piede libero e una multa oltre al fermo del veicolo. Un nuovo rinvio dopo quello della volta scorsa. Stamani al Tribunale di Firenze è stata accolta la richiesta di modifica dei capi di imputazione da parte dell'accusa che ha portato ad un nuovo rinvio al processo Cheu che vede indagate 24 persone e 6 società per lo svantimento in 13 siti sparsi per la Toscana di tonnellate di residuo di produzione proveniente dal trattamento dei fanghi prodotto dalla concia delle pelli. Tra i reati contestati agli imputati, a vario titolo, quelli di associazione per delinquere, gestione abusiva di rifiuti, abuso d'ufficio, corruzione elettorale, corruzione per atti contrari ai doveri d'ufficio e falso. La prossima udienza si terrà il 20 settembre sempre al Tribunale di Firenze. E torniamo ancora a parlare di cronaca nel retino. L'attitanza finita per un uomo ricercato dalla polizia, gli agenti lo hanno fermato ad Arezzo. Ce ne parla in questo servizio Chiara Sadotti. Lo cercavano da oltre un mese, doveva infatti scontare 5 anni di carcere. Adesso la sua latitanza è finita. A stanarlo ed arrestarlo gli agenti della squadra volanti della questura di Arezzo, coordinati dal vicequestore Marco Gallorini. I poliziotti, durante un normale controllo del territorio a Salleo, hanno fermato un'auto. Ad insospettire gli agenti, il fare nervoso ed insofferente del passeggero, con numerosi precedenti, riguardanti in particolare la violazione della normativa sugli stupefacenti. Da qui i controlli più approfonditi, grazie ai quali sono saltati fuori quattro involucri in cellofan termosaldato trasparente contenenti cocaina, per un peso complessivo di oltre 20 grammi. Accompagnato in questura, l'uomo è stato sottoposto a foto o segnalamento. Ulteriori accertamenti poi hanno consentito di risalire ad un alias sul quale gravava un ordine di cattura per l'esecuzione della condanna. Per lui si sono aperte le porte della casa circondariale di San Benedetto, dove sconterà la pena. È stato anche denunciato per detenzione e fini di spaccio di sostanze stupefacenti e dovrà infine pagare una multa di 4.388 euro. E da domenica 9 giugno a lunedì 30 settembre sono programmati i lavori per il rinnovo di circa 20 chilometri di binario complessivi tra le località di Arezzo e Castiglion Fiorentino e tra le località di Indicatore e Ponticino sulla linea convenzionale ferroviaria Firenze e Roma. Durante i lavori che prevedono un investimento di circa 15 milioni di euro saranno impegnati quotidianamente oltre 50 tecnici della rete ferroviaria italiana, società capofila del polo infrastrutture del gruppo FS italiane e delle ditte appaltatrici con l'utilizzo di due treni cantiere in numerosi mezzi d'opera. Le attività di cantiere si svolgeranno nelle ore notturne per limitare al massimo i disagi. Durante i lavori tra le località interessate sarà istituita una riduzione di velocità e questo comporterà per alcuni treni regionali la modifica degli orari di partenza e anche quelli di arrivo. Adesso parliamo di politica perché domani e domenica si vota per le europee e per le amministrative in 26 comuni della nostra provincia. Facciamo il punto delle elezioni in tutta la provincia di Arezzo. Vediamo. Saranno 75.780 di cui 36.281 maschi e 39.499 femmine iarettini al voto sabato 8 e domenica 9 giugno. Ad Arezzo si voterà esclusivamente per il Parlamento europeo e quindi sarà consegnata una sola scheda. Rispetto all'ultima tornata elettorale, le politiche 2022 si registra un più 2.244. Vanno poi aggiunti i comunitari residenti ad Arezzo che hanno fatto una domanda specifica per votare i rappresentanti italiani al Parlamento europeo. Sono 188 in totale. Gli elettori più giovani, 3, compiono 18 anni proprio al novantesimo minuto, anzi nel recupero. Pur diventando maggiorenni la domenica potranno infatti votare anche di sabato, praticamente a 17 anni e 364 giorni. Il più anziano elettore di anni ne ha invece 110. In termini quantitativi la sezione più numerosa è la 8, la ex caserma Cadorna con 1.288 elettori di cui 615 maschi e 673 femmine che torna in testa dopo essere stata superata nel 2022 dalla 92 all'elementare di via Benedetto Croce. Per trovare la meno numerosa occorre salire come la tradizione a Santa Maria la Rassinata e la 85 con 57 elettori. I deputati al Parlamento europeo eletti nei 27 comuni dell'Unione europea sono 720 calati rispetto al passato per effetto della Brexit ma il leggero aumento rispetto al 2019 quando erano 705. Sono ripartiti sulla base di due criteri, popolazione di ciascuno Stato e livello minimo di rappresentanza. Si va dai 6 di Malta, Cipro e Lussemburgo ai 96 della Germania, seguita da Francia 81 e Italia 76. Ed è tornato ad Arezzo il Privacy Day, un forum sui temi della privacy e dell'intelligenza artificiale che non hanno mancato di trattare temi molto attuali proprio come le campagne elettorali attraverso i social. Siamo alla vigilia di un voto importante, elezioni europee nell'Aretino 26 comuni, ci sono anche elezioni regionali in alcune zone d'Italia, insomma avete fatto un appello importante. Sì, è un appello importante perché ogni cittadino è chiamato non solo a esercitare i propri diritti, i doveri di voto ma anche a mostrarsi cauti quando sono online perché sempre più spesso ormai il web, i social sono popolati da fake news, da deep web dove attraverso queste tecnologie possiamo vedere a volte personaggi dello sport, dello spettacolo che magari dichiarano di essersi arricchiti con investimenti strani per sembrare veri ma d'altra parte anche in periodi come questo i personaggi presi di mila potrebbero essere quelli politici e allora potrebbe essere che noi vediamo personaggi politici candidati alle elezioni che dicono cose diverse da quelle che ci aspetteremo oppure che suscitano un certo clamore quindi noi per le motività potremmo essere spinti a condividere subito quelle informazioni con la nostra cerca di amicizio, a mettere like ed è pericoloso questo perché dobbiamo essere consapevoli e coscienziosi perché se i nostri amici poi vedranno notizie che sono forvianti la colpa sarà anche nostra perché eravamo noi i primi ad aver messo il like, ad aver condiviso a maggior ragione il nostro amico crederà che per questo motivo si tratta di una notizia affidabile quindi dobbiamo stare attenti prima di condividere ogni informazione che sia politica ma anche di carattere generale che quella notizia sia attendibile, che la fonte sia verificabile, che la notizia sia accurata e poi con il problema dei deep fake di stare attenta anche all'allaborazione tecnica cioè che effettivamente magari un personaggio che sembra dire le cose che il labiale effettivamente corrisponda perché magari quelle parole non le ha mai pronunciate. Oggi è una giornata intensa, tanti interventi, uno su tutti quello del Presidente e del Garante ma la parola che mi verrebbe da usare, una su tutte, è consapevolezza oltre che formazione. Assolutamente consapevolezza da parte dei cittadini anche in base a quello appunto abbiamo detto, degli utenti perché ormai la vita tradizionale si sta trasferendo interamente sul digitale prima se si doveva andare in vacanza andavamo all'agenzia di fiducia, ora invece andiamo online prima per fare un'operazione bancaria andavamo allo sportello dietro l'angolo, ora invece siamo online però a volte non è conveniente come potrebbe sembrare perché il web è comodo ma presenta anche tanti rischi allora la consapevolezza serve perché per bilanciare, per valutare ogni volta se conviene esporsi a possibili rischi a possibili truffe, a possibili frodi o attacchi degli hacker compiendo quelle operazioni che prima facevamo nella vita fisica farle online. Non è che vogliamo scoraggiare di usare il digitale perché è assolutamente importante, comodo e dà grandi prospettive ed opportunità però di valutare di volta in volta se effettivamente conviene per l'operazione farla online oppure tornare al nostro fornitore dietro l'angolo. Questa giornata si conclude immagino con grande soddisfazione. Con grande soddisfazione perché a parte tanta gente da tutta Italia, isole comprese, abbiamo avuto l'onore di avere ad Arezzo tre membri su quattro del Garante per la protezione dei dati personali a partire dal Presidente e questo veramente grande soddisfazione anche perché come Arezzo TV usa bene il Privacy Day è partito da Arezzo. È vero che poi crescendo è passato per Roma a varie edizioni, dal CNR di Pisa però ora che siamo tornati ad Arezzo, grazie a una bella location che all'epoca quando cominciamo non c'era siamo felici perché è andata bene quindi possiamo valutare anche di tornare ad Arezzo anche per le prossime edizioni. E dopo il trasferimento della sede del distretto della zona retina anche lo sportello punto insieme di Arezzo cambia sede. A partire dal 10 giugno non sarà più in via 25 Aprile ma si troverà in via Curtatone al Civico 54. Il punto insieme è il servizio di presa in carico di persone over 65 in situazioni di fragilità residenti nel territorio del comune di Arezzo. Dal 10 giugno gli utenti saranno accolti in presenza presso la sede ASL di via Curtatone da un assistente sociale. Punto insieme è un servizio rivolto alle persone anziane non autosufficienti o alle persone con disabilità e anche ai loro familiari. Di fatto costituisce la porta d'ingresso ai servizi e alle prestazioni in favore delle persone che non sono in grado di provvedere autonomamente alle necessità di tutti i giorni. Sono circa 200 gli sportelli diffusi su tutto il territorio regionale. E ci sono nuove opportunità per l'assistenza infermieristica tradizionale. Un tema al centro dell'incontro del 13 giugno ad Arezzo il servizio. Sono strumenti che ci consentiranno di avere quella prossimità che il DM77 sponsorizza nella logica di pensare alla casa come primo luogo di cura. Teleassistenza a nuove opportunità per l'assistenza infermieristica territoriale. Sarà questo il tema al centro dell'incontro in programma per il prossimo 13 giugno all'auditorium Pieraccini dell'ospedale San Donato di Arezzo. Le aspettative delle persone si innalzano sempre di più. Le difficoltà che abbiamo nel coprire tutti i territori soprattutto in un territorio come questo molto variegato dal punto di vista orogeografico, infrastrutturale impone l'utilizzo di nuove tecnologie come il teleassistenza e il telemonitoraggio. Fondamentale per collegare i professionisti e renderli più vicini alla popolazione anche in territori più disagiati. Il tutto sarà reso possibile grazie ad una donazione dei Rotary Club della Rietruria, 15 tablet, 15 ring light ed un monitor parametrico. Che saranno in collegamento con la centrale operativa e con tutti i professionisti, anche infermieri specialisti proprio in lesioni da decubito che chiaramente rappresentano la cronicità di tanti pazienti a casa propria. Questo significa dare una risposta più immediata e più veloce a queste famiglie. La Rotary non è vicino agli infermieri in particolare, è vicino ai cittadini, ai bisogni della popolazione. Questo è quello che ci muove e ci fa fare i service che durante l'anno proponiamo. E domani si inaugura l'edizione 2024 di Pescaiola da vivere. Il taglio del nastro è fissato alle 19.30 il largo primo maggio ad Arezzo. Si tratta dell'undicesima edizione organizzata dalla Conf Commercio Firenze-Arezzo su iniziativa dei commercianti della zona con il patrocinio del Comune di Arezzo, della Camera di Commercio di Arezzo e Siena e il contributo di Banca Tema. Ad animare l'inaugurazione interverrà la compagnia teatrale Accademia Creativa con trampolieri e farfalle luminose. A seguire si terrà la premiazione del quartiere nel commercio, riconoscimento che questa volta sarà consegnato a due imprese arrivate da poco nella zona di Pescaiola. E adesso parliamo della trans appenninica a cavallo sulle Orme di San Francesco, viaggio di primavera proprio con l'edizione della trans appenninica. Vediamo il servizio. Sarà un viaggio emozionale, oltre che tecnico perché i posti sono meravigliosi, i paesaggi sono unici, il nostro appennino centrale è bellissimo, però c'è un'emozione in più che è quella del viaggio diciamo religioso, culturale per noi che è molto molto importante. A cavallo sulle Orme di San Francesco, l'edizione 2024 della trans appenninica dal 13 al 15 giugno sarà infatti un'edizione speciale. Il viaggio di primavera si svolgerà in occasione degli 800 anni dalle stimmate di San Francesco e dei 30 di vita dell'associazione Cavalieri. Questo è un viaggio itinerante, è una forma di cammino un po' come sarebbe Santiago, come sono i cammini di San Francesco e noi lo vogliamo fare un po' spartano quest'anno. Difatti i cavalli verranno alloggiati in modo rustico, sempre molto controllati, però in modo più rustico. Le persone viaggeranno con le tende e abbiamo un seguito tecnico che ci porteranno tende, bagaglie eccetera, però noi viaggeremo a tappe e le tre tappe vanno dalla Verna fino a Badia, il Carpegna e San Leo. La passeggiata tardo-primaverile tra chiusi della Verna e San Leo, oltre a collegare due importanti siti francescani, è un percorso tra i più belli ed interessanti che si possano fare attraversando l'Appennino Centrale. Un ritrovo fra appassionati di cavalli, dove il cavallo diventa sicuramente l'amico del cavaliere, perché in queste situazioni è lì che si creano questi rapporti di reciproco rispetto, di reciproco fiducia e quindi c'è molto formativo ed educativo anche per i giovani che si avvicinano a questo tipo di attività. E anche questo è uno dei temi che sta a tanto cuore anche alla nostra azienda. Una firma per rendere concreto il cammino verso la sostenibilità. Con l'accordo siglato questa mattina tra Confartigianato Imprese Rezzo e Zero Spreco di Aise Impianti, si dà il via ad un percorso di consapevolezza e good practice che si concretizzerà in almeno un anno di iniziative. La riduzione dello spreco e l'uso consapevole delle risorse sono la filosofia di zero spreco che metterà le sue competenze a disposizione di tutti gli associati. L'accordo prevede corsi di formazione destinati ai privati, come quelli di ridurre gli sprechi nelle cucine e fare una corretta raccolta differenziata, ma anche attività di consulenza e sostegno alle imprese su come ridurre sprechi e consumi anche attraverso la società controllata AISA Impianti Gestione Ambientale. L'obiettivo è rendere sempre più prossimo alle imprese il mondo del Environment, Social and Governments, il rating di sostenibilità ambientale, sociale ed energetico richiesto dall'Europa. E adesso la notizia di sport, seminari per genitori e tecniche, esibizioni e stage con ex ginnaste olimpioniche, gran galà di fine anno e tante altre iniziative organizzate nel weekend dalla società di ginnastica ritmica Giuseppe Falciai per festeggiare la vittoria del campionato di Serie B e la promozione in A2. È in programma per sabato 8 e domenica 9 giugno, emozionandoci l'evento promosso proprio dalla società Falciai. Una due giorni interamente dedicata allo sport e al benessere emotivo degli atleti con il coinvolgimento di esperti e personaggi di spicco del mondo sportivo nazionale e internazionale. Seminari all'auditorium Montetini, laboratori alla palestra Severi, esibizioni al Prato e gran galà al palaestra Mario D'Agata. In programma anche la sfilata degli atleti per le strade del centro storico accompagnati dalle note dei musici della giostra del Saracino e dalle acobrazie degli sbandieratori. E con questo è davvero tutto, io vi ringrazio come sempre per l'attenzione e vi auguro una piacevole serata. Arrivederci. Grazie a tutti. Grazie a tutti.